buon appetito se siete a casa buon lavoro se siete fra i fortunati a cui è permesso tornare uscire tornare a lavorare un ragionamento con voi di pochi minuti poi non vi disturbo oltre però leggere i giornali oggi è veramente sconfortante fa girare le scatole mentre io rispondo quotidianamente non a tutti perché non ce la faccio ma tanti di voi che sono da mesi senza lavoro senza negozio senza stipendio senza fatture senza guadagno e quindi iniziano a essere in difficoltà anche perché la cassa integrazione promessa non è arrivata a proposito oggi perfino l'inps smonta la fake news sulla lombardia che non fa quello che deve sulla cassa integrazione a furia di chiedere 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 a furia anche di minacciare qualche querela perché c'è un limite alla mala fede e alla menzogna sono usciti i dati e la prima regione italiana per domande di cassa integrazione elaborate e depositate è proprio la lombardia guarda caso peccato che a livello nazionale a livello centrale fra inps governo e ministeri non tutti stiano facendo la loro parte però abbiamo sentito per giorni e giorni la bufala della regione lombardia che non aiutava i suoi lavoratori suoi cassi integrati oggi escono finalmente i dati e la regione italiana che ha elaborato e depositato più domande guarda caso è proprio la regione lombardia che è massacrata da giornali e telegiornali da settimane adesso però bisogna pagarli questi soldini dicevo mentre ci sono difficoltà con la cassa integrazione coi soldi in banca promessi dalle banche dal governo lasciamo perdere perché rispondo a decine e decine di voi imprenditori commercianti artigiani liberi professionisti che sono andati in banca hanno compilato moduli su moduli e poi sono usciti senza una lira perché non c'è il merito di credito perché non c'è il bilancio perché non c'è la documentazione necessaria o perché la banca ritiene che non siate affidabili roba da matti sui 600 euro ci sono centinaia di migliaia di lavoratori a cui erano stati promessi che non hanno ancora visto una lira ebbene con tutte quelle queste difficoltà di lavoro di salute di risparmio di mutuo d'affitto il governo a cosa sta lavorando e oggi lo leggiamo anche su qualche giornale perfino sulla repubblica a una maxi sanatoria per immigrati clandestini a una regolarizzazione di massa di immigrati clandestini avete capito bene voi direte ma non è vero perché non l'abbiamo sentito su nessun telegiornale il tg1 non ha detto niente il tg7 non ha detto niente il tg3 4 44 e 94 non ha detto niente questo è una maxi sanatoria una regolarizzazione mai vista in precedenza il ministro bellanova ministro dell'agricoltura parlava addirittura di 600 mila immigrati da sanare dalla sera alla mattina per decreto follia e adesso pare che al governo stiano litigando e stiano facendo il mercato degli schiavi 200 mila no 250 mila 300 mila 400 mila follia vedremo di impedirlo in ogni maniera democraticamente permessa dentro e fuori il parlamento ovviamente non è tempo di manifestazioni di cortei però sapremo come coinvolgervi l'importante che comunque sappiate sappiate perché con la scusa del virus stanno gestendo il sistema dell'informazione come piace a loro pensate che vogliono multare la trasmissione di mario giordano per istigazione all'odio siamo alla follia magari proveranno a mettere il bavaglio anche a massimo giletti perché ha osato portare alla luce una vergogna incredibile che riguarda il ministro della giustizia il ministero della giustizia sospetti veramente preoccupanti avanzati da un magistrato antimafia oltretutto non da un parlamentare dell'opposizione e andremo fino in fondo per avere chiarezza a nome degli italiani a nome di coloro che vengono processati a nome degli avvocati la giustizia è uguale per tutti sì ebbene non ci possono essere ombre di sospetti pensate se il sospetto di condizionamento fosse accaduto ai danni di un ministro della lega o ai danni di un ministro di berlusconi in passato sarebbe stata la rivoluzione titoli sui giornali sui telegiornali girotondi manifestazioni i 5 stelle e la sinistra in tutte le piazze su tutte le reti su tutti i canali facebook twitter instagram dimissioni vergogna scandalo la mafia la lottizzazione adesso niente il capo politico dei 5 stelle il signor crimi ha detto ma un equivoco si devono chiarire il ministro col magistrato no non è un equivoco quando c'è l'ombra di mancanza di libertà di scelta o di condizionamento nella scelta di qualcuno che ha responsabilità di governo e che decide della libertà degli italiani non basta una chiacchiera ci vorranno chiarimenti veri certi possibilmente in parlamento e non in televisione con una telefonata come sono abituati a fare questi ministri però ripeto noi possiamo informare contro informare denunciare segnalare così come sulle cure io ho messo proprio su questa pagina l'esperimento eccezionale che alcuni medici stanno portando avanti in alcuni ospedali italiani pensiamo all'ospedale di mantova stanno curando i malati di virus con il plasma donato da altri malati che sono guariti una cura che funziona io ringrazio ad esempio il professor de donno dell'ospedale primario dell'ospedale di mantova ringrazio i medici che ci stanno lavorando in altri ospedali penso all'ospedale di pavia perché a livello di governo non se ne parla il professor de donno ha denunciato in un'intervista il governo non ci chiede nulla l'istituto superiore della sanità se ne disinteressa perché molti cittadini a questo punto potrebbero avere il dubbio che siccome il plasma è gratis siccome non c'è dietro un business di qualche industria farmaceutica siccome non ci sono appalti o guadagni milionari ebbene è meglio occuparsi di altro follia quello che possiamo fare è annunciare che ci sono anche buone notizie e quindi se viene dal plasma di coloro che erano contagiati e sono guariti una speranza per tanti ammalati dovrebbe essere dovere di un governo responsabile approfondire quello che questi medici stanno facendo e quindi silenzio sulla sanatoria dei clandestini silenzio sugli sbarchi anche di questa notte a lampedusa altri 136 sbarcati ragazzi i numeri aggiornati ad oggi sono questi e non li troverete sui giornali o al tg1 dell'ora di pranzo da gennaio a maggio dell'anno scorso sbarcarono in italia 842 immigrati da gennaio ad oggi quest'anno governo conte di maio renzi zingaretti lamorgese gli sbarchi sono quadruplicati più 400 per cento da 842 a 3587 più di quattro volte tanto avete capito qual è il meccanismo infernale che i signori al governo stanno studiando con la scusa del virus maxi sanatoria per regolarizzare chi è qua e il solo annuncio della maxi sanatoria sta aprendo porti come non accadeva da tempo e gli sbarchi sono quadruplicati nonostante il virus perché uno diceva l'italia è contagiata figurati se gli sbarchi continuano anzi si fermeranno diminuiranno esatto contrario più 400 per cento quindi la cassa integrazione promessa non arriva i 600 euro promessi non arrivano ci sono tantissimi italiani anche tanti immigrati regolari che io considero fratelli e sorelle in difficoltà preoccupati per il loro lavoro per il loro negozio per la loro azienda per i loro risparmi per il loro futuro per i loro figli e il governo su cosa sta litigando giorno e notte una maxi sanatoria per centinaia di migliaia di immigrati clandestini e se in qualche ospedale si sta sperimentando una cura a costo zero per uscire dal virus silenzio silenzio forse perché il plasma costa poco forse perché arrivano i donatori gratuiti a portare la cura a questo virus non è così che si fa informazione non è così che si fa giornalismo non è così che si governa un paese noi ce la metteremo tutta per quello che riguarda le questioni giustizia e buona fede andremo fino in fondo e non siamo e non saremo da soli perché tanti uomini di legge tanti magistrati tanti avvocati tanti giornalisti tanti liberi cittadini ritengono una vergogna che con la scusa del virus durante la quarantena siano usciti dal carcere 400 delinquenti accusati di reati mafiosi non quattro avete capito bene 400 delinquenti assassini estortori spacciatori mafia camorra e ndrangheta adesso l'obiettivo è riportare l'italia essere un paese sano prosperoso laborioso però noi interveniamo in parlamento anche in queste ore per cercare di correggere alcuni problemi alcuni errori alcune dimenticanze dal governo però su qualcosa proprio la pazienza si è esaurita aspettiamo voi chiameremo voi intanto dateci una mano facendo sapere agli italiani quello che molte televisioni nascondono funziona in tanti ospedali una cura al virus sì ed è gratis o quasi dovuta all'ingegno dei medici dei ricercatori e dei donatori di plasma e quindi perché non sperimentarla a livello nazionale perché non parlarne a livello nazionale perché il silenzio del ministero della salute perché il silenzio dell'istituto superiore della sanità e poi per quello che riguarda il lavoro la ricetta è semplice per aiutare nel lavoro nei campi niente sanatoria niente maxi regolarizzazione reintrodurre i voucher i contratti a tempo per permettere a disoccupati cassi integrati studenti e pensionati di lavorare in agricoltura nel turismo nella ristorazione nei servizi occorre superare i vecchi vincoli vecchi legami la vecchia burocrazia se la cgl non è d'accordo ce ne faremo una ragione perché la costituzione italiana non prevede che l'italia sia una repubblica fondata sul lavoro e sui pareri della cgl voucher per dar lavoro ai disoccupati italiani o maxi sanatoria tenerci in casa per tutta la vita centinaia di migliaia di clandestini io la risposta ce l'ho la lega la risposta ce l'ha teniamo duro stanno provando ad attaccarci a infamarci a denigrarci a demolirci in ogni modo ma non ce la faranno perché la verità alla fine viene a galla perché il tempo è galantuomo basta continuare a lavorare con pazienza con serietà con costanza con buon senso io ringrazio tutti i sindaci tutti i governatori tutti gli amministratori tutti i volontari in tutta l'italia da nord a sud della lega io sto facendo quotidianamente incontri con zoom con skype con amministratori imprenditori commercianti avvocati agricoltori taxisti operai in sicilia in campagna in veneto in lombardia in puglia in abruzzo in toscana in piemonte teniamo duro usciremo da questo tunnel però abbiamo il dovere di vigilare che nessuno svenda l'italia e gli italiani qualcuno vorrebbe svenderci alla cina qualcuno vorrebbe svenderci alla germania qualcuno vorrebbe fare dei regali a pechino e qualcuno vorrebbe fare dei regali a berlino io non mi fido con tutto rispetto né di pechino né di berlino io mi fido degli italiani che si sono dimostrati anche in queste settimane di chiusura un grande popolo teniamo duro perché alla fine la verità vince vincono le persone per bene prima l'italia e prima gli italiani sempre e comunque se voi ci siete potete contare su di me finché il buon dio mi darà voce e mi darà vita vi voglio bene ma 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 ma